Che dire, ovviamente per me essere qui è sicuramente una cosa particolare. Sono andato via da Misilmeri circa 25 anni fa e come avete capito, insomma, penso che questo si sappia, mi sono unito a questo gruppo chiamato Chris e la risposta, quando mi sono unito alla missione ovviamente ho iniziato a fare qualsiasi cosa mi veniva data da fare, quindi considerando che mi hanno visto subito uno molto sveglio, ho fatto l'operatore ecologico per diverso tempo, poi vedendo la mia abilità sono passato in carrozzeria, quindi ho lavorato all'interno delle carrozzerie, ho tagliato, ho carteggiato e così via, strada facendo una serie di cose. Poi a un certo punto ho suonato anche, mi ricordo di aver suonato anche qualche mese qua, ho suonato un po' col gruppo e poi così sono stato coinvolto con l'amministrazione del gruppo e piano piano una cosa tira l'altra ed oggi siamo qua. Che dire? Testimonio che il Signore ha sempre provveduto a me e alla mia famiglia. Quando racconto questo, giusto per farvi comprendere, quando mi dovevo sposare, noi a Chris e la risposta adesso non è più così, però al tempo del nostro fidanzamento, anzi vorrei far alzare Esdra e Darika perché non ci sono, sì sì sì, alzatevi, mi era sfuggito questo dettaglio, le figlie insomma, Esdra e Darika, perfetto. Al tempo del nostro fidanzamento in pratica bisognava passare la prova, c'è nel senso che gli anziani, ed era giusto, c'è nel senso c'era un motivo, perché quando il gruppo arrivò in Italia erano tanti giovani che venivano da tante esperienze diverse, quindi era necessario far passare del tempo ai giovani che si volevano impegnare in matrimonio e negli anni c'era questa sorta di prova, quindi si passava del tempo in un fidanzamento serrato, a distanza, controllatissimi, non si poteva praticamente neanche parlare l'uno e l'altro, finché gli anziani stabilivano che avevamo la maturità necessaria per poter parlare insieme con qualcun altro e poi a un certo punto ti chiamavano e ti dicevano ok, vi potete sposare. E così è successo anche a noi nel 2006, ci hanno detto vi potete sposare e il problema era che io ho detto ma dove andiamo a vivere? Cioè perché sostanzialmente va benissimo, abbiamo passato la prova, adesso dove andiamo a vivere? E così ci diedero una roulotte che aveva più di 40 anni. Quando siamo andati per mettere a vedere questa roulotte c'era il pavimento bucato, là dentro era proprio, non c'era niente, infatti è stata lo smontata completamente. A un certo punto ho detto vabbè mettiamo, montiamo la verandina della roulotte, metto la verandina, vado per tirare la corda, penso qualcuno di voi avrà mai fatto una cosa del genere, vado per tirare la verandina della roulotte e si strappa tutta la verandina della roulotte, però io mi dovevo sposare, quindi questi sono ostacoli che si possono superare. Tiro fuori la verandina, il cordone, la cucio a mano, vi faccio dare un filo speciale da Emanuele Francese, la ricuccio e la rimonto. Vado di nuovo per tirare fuori, tirare la veranda e stavolta viene via la parete della roulotte. E lo so, lo so, ma noi così abbiamo vissuto, così viviamo e abbiamo riattaccato la parete della roulotte. E così dopo una serie di imprevisti, avventure e cose varie ci siamo sposati e il Signore ci ha onorato a Roma. E così via, negli anni, siamo sempre stati testimoni che il Signore ha sempre provveduto a ciò che abbiamo avuto di bisogno. Attualmente siamo a Firenze, vicino insomma alla famiglia Barbere, infatti li ho incontrati più volte sulla zona di Pontassieve. Noi siamo a Reggello e siamo a Reggello perché il Signore letteralmente ha voluto così. E quando dico così non lo dico tanto per forzare le cose, lo dico perché noi avevamo, voi ci avete conosciuto, ora non so chi ci ha conosciuto storicamente col grande accampamento, con tutte le roulotte, girando per l'Italia. Siamo arrivate a Latina e a Latina ci hanno sequestrato una decina di anni fa, 2015, ci hanno sequestrato tutto. Io mi sono beccato due denunce penali, abusi edilizzi di inquinamento ambientale, un po' grandi come nomi, ma quello erano. E ci hanno sequestrato tutto, ci hanno costretti alla demolizione forzata e ci avevano dato una data di scadenza, diciamo così, per lasciare ogni cosa. In quel periodo non avevamo letteralmente dove andare, non abbiamo ricevuto un grandissimo aiuto pur chiedendo a tutti. Devo dire che negli anni che precedevano questo momento all'interno della missione c'era la necessità di un cambiamento. Non era solo la necessità di un cambiamento generazionale, era la necessità proprio di cambiare la struttura, il modo di impostare, diciamo, il programma, il modo di presentarsi alla nazione. E siccome quando avvengono i cambiamenti non sono sempre semplici, non avvengono mai in modo indolore, il Signore ci ha forzati. E quindi a Latina ci ha sequestrato ogni cosa, ci ha veramente ridotto senza la possibilità di scegliere, perché all'interno fra di noi c'era chi diceva, no, dobbiamo continuare così, la nostra tenda bianca e blu è identificativa, non ci possiamo mai fermare. C'era un'altra parte che diceva, no, dovremmo avere un posto fisso dove rimanere ed eventualmente dove avere questo campo base, eccetera, eccetera. Quindi fermi a Latina, costretti per forza maggiore. Abbiamo detto, rivolgiamoci al Signore. E così abbiamo iniziato a prendere un tempo di digiuno, di preghiera, di veglia, di preghiera. Abbiamo detto, Signore, solo Tu a questo punto puoi aiutarci. E vi devo dire che a fine di novembre un uomo chiamato Professor Mario Bigazzi, quindi diamo pure dei nomi per dire quanto è concreta la situazione, mi ha telefonato al cellulare. Non lo conoscevo prima, non sapevo chi era, e mi ha chiesto se ero interessato a prendere un albergo di sua proprietà a Reggello, dove noi siamo adesso, perché loro avevano come famiglia questo albergo indissuso, una famiglia molto benestante, e mi ha detto se volevo prendere questo albergo in concessione per la mia associazione. Così mi disse. Sono andato a Firenze, da Latina, sono arrivato nel suo ufficio. Vi premetto che sono persone molto, molto, molto benestanti. E sono tornato a casa, al gruppo, con le chiavi di questo albergo. Il Signore ci aveva dato un posto dove andare, non ha voluto neanche un centesimo di affitto. Siamo stati lì per sette anni. Abbiamo vissuto sette anni lì, un albergo con 90 camere da letto, tutte con bagno. E in questi sette anni il Signore ci ha permesso di ristrutturare il gruppo. Ci ha dato la possibilità di acquistare la tenda che vedete adesso. La vecchia, bianca e blu l'abbiamo portata in Turchia. Sta servendo il Signore ancora adesso sulla zona fra la Turchia e la Siria. E ci siamo stabiliti in Toscana. In Toscana abbiamo diverse attività, diverse da quelle, diciamo, classiche della tenda. Abbiamo una chiesa, piccola chiesa, ma abbiamo una chiesa. I toscani sono diversi da noi siciliani, ma comunque sono recettivi, perché guardano prima la tua testimonianza. Guardano prima tu chi sei, come ti muovi, come ti comporti. Poi ascolteranno quello che dici. E posso dire che in qualche modo ci sono persone, anime nuove, che stanno regolarmente frequentando la nostra piccola, umile chiesa. E così via, tante altre piccole cose che il Signore ci dà da fare. Siamo là, concludo dicendo, quando andrò via, non so quando ritorno, fra un anno, due, tre, non lo so. Ricordatevi di me in preghiera, dalla mia famiglia. Questo è sicuramente l'unico impegno che vi chiedo di portare avanti. Va bene? E il Signore vi benedica. Se avete con voi una Bibbia, vi invito a prendere la lettera agli ebrei, capitolo 11, versetto 39. Dice così Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giunsero alla perfezione senza di noi. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso ed il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, con Lui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta d'innanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Signore benedici e vivifica la Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, chi è l'autore della lettera agli ebrei? Non ci è dato saperlo. Ci sono tanti che dicono per questo motivo o per quell'altro motivo. In realtà, la verità è che nell'antichità le lettere, le epistole, in senso generale, non solo quelle di Paolo o di altri autori, ma in senso storico, venivano collezionate. Così anche le lettere di Paolo vennero collezionate e abbiamo ritrovato in tempi moderni collezioni composte da tredici lettere e collezioni composte da quattordici lette. Perciò, per questo motivo e non per altri motivi letterari, è difficile comprendere chi è l'autore del testo agli ebrei. Certo è che l'autore scrive prima della distruzione del Tempio o è molto probabile che quindi scrive prima del 70 e che scriva dei cristiani che hanno a dei giudei che si sono convertiti a Cristo e che hanno vissuto, quindi conoscono bene la legge, Mosè, i padri, le promesse antiche e che adesso si devono confrontare con quello che è il Vangelo. Allora, tutta la lettera agli ebrei è una sorta di testo, una sorta di testo di studio ispirato dallo Spirito Santo per questo tipo di persone che li porta dolcemente dall'antico, tra virgolette, testamento, dal Primo Testamento a quello che è il Vangelo e in conclusione fa una sorta di riassunto, se così si può dire. Questo capitolo 11, comunemente chiamato capitolo degli eroi o esempi della fede, è una lunga carrellata di esempi che i lettori di questo testo conoscevano e quindi l'autore dice che la fede è certezza di cose che si sperano e inizia così a fare un elenco lungo di persone abbastanza, diciamo, conosciute. Parte da Abele, in realtà parte dal fatto che la terra è creata e non è frutto di cose apparenti, quindi ancora prima della teoria del Big Bang, già qui il testo ci dice che il Signore è il creatore. Parte da Abele, dice per fede, perché, fratelli, fede che significa? A volte ci complichiamo la vita con paroloni e non abbiamo il senso delle cose. Fede significa letteralmente fiducia. Va bene? Per fiducia Abele offrì un sacrificio che era più eccellente, migliore di quello di Caino. Per fede Enoch fu rapito e fu portato in cielo. Per fede Noè, divinamente avvertito, costruì un'arca e salvò la sua famiglia. Ed è interessante notare che, secondo gli studiosi, prima di Noè non era mai piovuto sulla terra. È un'altra cosa che è importante considerare il tempo che ci è voluto per costruire l'arca. Circa cento anni. Non è che si è improvvisato. per fiducia alla promessa che il Signore aveva dato per cento anni, giorno dopo giorno, deriso, ostacolato, Noè costruì l'arca e per mezzo di quell'arca salvò la sua famiglia ed eventualmente l'umanità. Per mezzo di, per fede, Abramo ricevette la promessa. Che promessa? Che Dio sarebbe stato il suo Dio, che la terra dove lui soggiornava come straniero sarebbe stata la terra data la sua eredità, la sua alla sua discendenza è una discendenza stessa, cosa insolita perché sia Abramo che Sara erano avanti negli anni e Sara era sterile. E così Isacco, Giacobbe, per fede, per fiducia alla parola pronunciata dal Signore le mura di Gerico caddero non per la nostra forza, non per la capacità ma per fede, per fiducia perché credettero al Signore Gerico cadde. Per fede Raab una donna, una prostituta, uno scarto fu salva, salvò la sua famiglia e il Signore la onorò mettendola nella discendenza di Re Davide ed eventualmente del Signore Gesù. E così per fede Gedeone, Barac, Sansone, Davide, Samuele, i profeti e così via tutti questi grandi, quindi l'autore in conclusione fa questo lungo elenco, tutti questi grandi si fidarono del Signore. Poi prima di concludere ci dice perché altrimenti non sarebbe completo il Vangelo che il Signore diede ad alcuni di loro la possibilità di chiudere le fauci ai leoni, di spegnere la violenza del fuoco, di scampare al taglio della spada, di divenire forti in guerra ma ad altri furono frustrati in catene, in prigione, segati, lapidati, uccisi ma tutti per fede continuarono a portare avanti il messaggio di speranza, la promessa e poi dice tutti costoro, quindi dopo aver fatto tutto questo elenco che io non ho letto in precedenza, tutti costoro pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, cioè l'autore riconosce che questo elenco di uomini erano uomini degni, importanti, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché? Perché Dio aveva in vista per noi. Non ho capito. Dio aveva in vista per noi, per te, per te, qualcosa di meglio in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. io lo so che stasera è difficile potersi confrontare a figure come Mosè, Davide, Samuele o chi è che sia, ma qui dice che il Signore aveva per noi qualcosa di meglio. Loro hanno visto in prospettiva, loro hanno sperato, noi abbiamo realizzato qualcosa che loro aspettavano. Allora, anche noi, cioè anche tu, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso ed il peccato che così facilmente ci avvolge, ci rallenta, ci frena, ci ostacola e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Non è obbligatoria, il Signore ti propone una gara. E voglio subito dirti, l'autore stava scrivendo a delle persone reali, ovviamente la parola di Dio ispirata dal Signore che si vivifica per ogni generazione è viva per noi oggi. E l'autore stava dicendo a queste persone reali che stavano vivendo dei momenti di altissima tensione, loro ci hanno preceduto, loro hanno visto grandi cose dal Signore, ma noi abbiamo qualcosa di meglio, abbiamo ricevuto qualcosa di più e in pratica noi dobbiamo continuare quello che è stato iniziato da altri. Il Signore ci propone una gara che non è iniziata con noi, il Signore ci propone di correre una gara che è già iniziata, bisogna continuare questa gara con perseveranza e che tipo di gara potrebbe essere se non una staffetta. Altri ci hanno preceduto, altri si sono preparati, altri si sono allenati, altri hanno guardato lontano verso la meta e hanno corso fino al punto di poter dare ad altri il testimone. ed oggi il Signore ci dice a noi tu in modo singolare sei il responsabile di continuare questa gara. Tu hai la responsabilità di continuare la gara che il Signore ci ha proposto. noi abbiamo la responsabilità di raggiungere altri con il messaggio del Vangelo che loro aspettavano ma che noi abbiamo visto in Cristo Gesù. Noi abbiamo ricevuto qualcosa di straordinario e perciò ne siamo responsabili. Voglio dire anche che la la staffetta è una gara abbastanza recente e quindi l'autore in realtà non poteva guardare proprio la staffetta. Gli autori biblici hanno sempre guardato delle cose molto pratiche ad esempio Paolo guardava l'armatura di un romano e la descrive in Efesini 6 e così via altri esempi. Quindi essendo la staffetta una gara abbastanza recente a che cosa si guardava? Perché la staffetta ha una sua origine si guardava ad una fiamma ad una torcia e veniva invece portata da un atleta all'altro per e a mio parere una fiamma ha più valore di una torcia di una di una staffetta di un testimone di un oggetto. Il Signore ci dà oggi la responsabilità fratello mio sorella mia di continuare la gara che altri hanno iniziato e ci dà la responsabilità di continuarla fino a quel giorno che Egli ritornerà. Noi non lo sappiamo quando sarà il tempo del suo ritorno certo è che noi dobbiamo essere pronti fissando lo sguardo su Gesù colui che crea la fede la rende perfetta per fare una gara fratelli miei non ti puoi improvvisare anni fa a Misilmeri Massimo quando andavo alle scuole medie ora qua ci sarà sicuramente qualcuno che c'era un professore che è di educazione fisica che ci faceva correre e poi a un certo punto ne sceglieva qualcuno e ci portava a pianostoppa e ci faceva allenare tutti i giorni non so qualcuno qualcuno era mai scelto fra questi che correvano a pianostoppa tutti i giorni e ti dovevi allenare sia se pioveva che se c'era il sole ti dovevi allenare tutti i giorni domenica incluso quando facevi parte della squadra se avevi delle capacità fisiche che il signore ti aveva dato anche la tua alimentazione doveva essere controllata non potevi mangiare qualsiasi cosa in prossimità di una gara di una prova gli esercizi gli allenamenti venivano raddoppiati si gareggiava ci si allenava con dei pesi per essere più leggeri durante la gara e diversi amici il meri hanno avuto belle soddisfazioni voi pensate voi pensate che se nel mondo materiale le cose funzionano così siano diverse nel mondo spirituale allora il signore ci propone una gara e su questo è facoltativo tu puoi scegliere se accettare la proposta del signore o rifiutare ma se decidi di entrare a far parte della squadra ti devi allenare seriamente altrimenti la tua mancanza può far perdere una squadra intera la tua non costanza può influenzare negativamente chi è intorno a te gli altri che ci hanno preceduto hanno finito e l'autore riconosce che hanno avuto una buona testimonianza e che hanno osservato la fede dirà Paolo da un'altra parte adesso tocca a noi che intenzione c'hai perché potete venire qua tutte le domeniche e non so quanti altri incontri avete durante la settimana ma se non vi preparate veramente nella cameretta segreta voi non sarete in grado di correre degnamente la corsa che il Signore ci propone voi non sarete in grado di sappiate bene non è la nostra capacità è la grazia del Signore che completa e compie l'opera ma il Signore ci dice di sforzarci Paolo a Timoteo come colui che non si deve vergognare approvato davanti agli uomini e davanti a Dio il Signore completerà l'opera il Signore arriverà lì dove noi siamo ma da parte nostra noi dobbiamo sforzarci uno cinque dieci non ha importanza quello che ti ha dato il Signore non tutti avremo un microfono nelle mani la maggioranza no ma quando saremo davanti al Signore non avrà importanza aver avuto un microfono o qualche altra responsabilità l'importante è che quello che il Signore ti ha affidato tu lo abbia trafficato nel modo giusto e il Signore ti dirà bene hai fatto mio fedele servitore perciò per fede questi grandi uomini ci hanno preceduto uomini e donne ci hanno preceduto e hanno mantenuto la fiamma accesa hanno mantenuto una testimonianza verace adesso tocca a noi anzi singolarmente adesso tocca a te di continuare a correre il Signore ti ha messo lì a casa tua nel tuo posto di lavoro io non posso arrivarci Massimo non può arrivarci tu sì tu sei l'unica speranza che quella gara proposta dal Signore continui all'interno di quel luogo dove lì il Signore ti ha stabilito certo non sarà facile ma fissando lo sguardo su Gesù ce la possiamo fare mi chiedo di alzarvi in piedi lo stesso autore della lettera agli ebrei continua dicendo perciò perché è come se questa grande schiera di testimoni ci sta guardando e sta sperando che tu ce la fai il Signore Gesù ti sta guardando e sta sperando che tu riesca perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti fate sentire i diritti per i vostri passi affinché quel che zoppo non esca fuori di strada ma piuttosto guarisca impegnatevi a cercare la pace con tutti ma quali sono i vostri problemi reali impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore il Signore stasera ti vuole onorare a far parte di quella squadra ti propone di correre questa gara non solo accetta con gioia si degno di tanto onore si degno e vinciamo insieme per fede perché ci fidiamo del Signore perché siamo certi che il Signore completerà l'opera che è iniziato fidiamoci del Signore e non ne saremo delusi il Signore